Bella ragazzi, per oggi un altro video di ZonaRaptor, stavo registrando un gameplay e nel frattempo che scrollavo il telefono tra una partita e l'altra ricerca, è uccido trailerino di The Witch Queen nuovo, fresco, minuto e trenta, che riguarda armi nuove, esotiche nuove e crafting, dice. Io ho già visto il leak che era uscito su Twitter, quindi qualcosina, diciamo, so già, ma dovrebbe dire cose in più. Quindi io direi, perché non faccio una bella reaction insieme, andiamo ad analizzare quello che vediamo, un po' per mettere hype all'espansione che uscirà il 22 febbraio, un po' perché abbiamo raggiunto, signori, il milioni di preordi di The Witch Queen. E fortuna che Destiny è un gioco morto, perché insomma, milioni di preordi da 40 dollari minimo l'uno, bello che è morto, ecco. Cazzata a parte, andiamo a vedere il trailer e poi ne parliamo. Ok. Questo è il nuovo sistema di crafting, tamarro. Crafta il tuo nuovo arsenale. Rank? Puoi scegliere ogni perk? Allora, io non vorrei stopparlo troppo, però puoi scegliere tutti i perk, altro che il serraio. Cioè, nel serraio scegliere il masterwork. Se nel sistema di crafting delle armi nuove puoi scegliere tutti i perk, proiettili, la canna, masterwork e i colpi e i perk nominali è assurdo. Ok. Questa, beh, sarà poi una nuova arma che vedremo. Scopri nuove armi esotiche. Bellissimo, rea. Spara colpi di bobina. Ma che c'era? Ma questa, questa l'ho già vista, rea. L'arma che spara i vermi, rea. Che esplodono. Spettacolare. L'arma del season pass, nuovo. La mitraglietta esotica che, quanto pare, rilascia veleno. Come la culio. Figata. E poi il falcione, regà. Del titano che spara la bolla. Falcione dello stregone che invece spara torrette curative. Non male. Sempre più una classe di support, lo stregone. Invece, fulmini che traccano. Vabbè, il cacciatore è un po' pepegas. Qua vediamo, penso, nuovi decori. Armi. Ah, pure le armi esotiche. Ra? Ma la barricata era un muro di stasi. Ma che stai dicendo? Ok, devo un attimo ristopparlo. Ma che sì, la madò, esplosioni. Un attimo ristopparlo e rileggio. E ora lo vediamo con calma. E poi, alla fine, andiamo a combattere. Sabaton che ci tira la classica bomba nuova. Sabaton che mi tira la bomba nuova vorrebbe essere il giorno in cui tiro un pugno allo schermo e sfascio tutto. Comunque, regà, spettacolare. Porco due, regà, una cifra di roba da vedere, secondo me, eh. Questa, vabbè, è una zona estetica. Sarà, penso, tipo, zona social. Cioè, dove tu vai lì e ti puoi craftare le armi. E hanno detto che il primo falcione del gioco sarà, appunto, craftabile. Ma, a quanto pare, sarà anche differenziato per classe. E puoi craftare il tuo arsenale. Ma, regà, ma sta cosa è assurda. Cioè, se veramente puoi scegliere ogni canna. Puoi scegliere i proiettili. Il prodigio. Sta cosa è fuori di testa. Fuori di testa. Altro che serraio. Altro che qualsiasi sistema. Beh, è bellissimo. È una figata perché ti permetterà, appunto, di scegliere l'arma come vuoi te. Però, allora, uno non sarà sicuramente abilitato a tutte le armi. Potrei solamente craftare quelle, penso, dell'attività nuova. Penso sia, ovviamente, applicabile a tutte le armi esistenti. Hanno poi detto che in futuro saranno craftabili in base a vari... Che te l'hai Omolon, Suros, eccetera. Alle varie case, no? Te l'hai, alle varie case. Quindi, perché ti ha fighissimo, ma, secondo me, per craftare un'arma con i perk, come dici tu, ti deve costare un boato. Per bilanciarlo, perché prima farmavi all'inverosimile e prima o poi la ottenevi come la volete. Adesso, se tu te la puoi craftare come vuoi, secondo me, per essere bilanciato, devono mettere un prezzo adeguato. Cioè, deve costare parecchio. Pure che sia un'arma leggendaria, deve costare parecchio. Che, altrimenti, raga, ci craftiamo tutti le armi nuove, non costa un cazzo e è già finito il farming. Che, alla fine, il farming, volento o nolento, che vi piaccia o no, fa parte del contenuto, no? Il grindare una cosa per ottenerla come la vuoi tu, per poi utilizzarla nelle varie attività che possono essere assalti, azzardo o crogiolo. Quindi, spero sia bilanciato. Sono molto in hype per questa cosa, con qualche dubbio, insomma. E poi, vabbè, questo qua mi sembra un ricognizione. E, vabbè, lui, in questo caso, l'ha craftato con triplo colpo. Che gli dà i proiettili nel cariatore. E lì, bello, vabbè, questo qua è ricognizione sicuramente nuovo. Nuove armi esotiche, raga. Eccolo qua. Grand Overture, non ho idea di come le tradurranno in italiano. Mi sa che trailer c'è in italiano. Facciamo allora a volo cambio trailer, aspetta. Grande Overture. Ok, non cambiava tanto come traduzione, grazie. Lanciaslag con carica di missili automati. Fra, è un lanciaslag... Questa è l'arma dei colossi cabal. Quelli che si piazzavano con la torretta, fermi a sparare colpi ad arco potentissimi. E quell'arma lì, a quanto pare, si può caricare di missili automatici. Che sono come i missili del bobina, i colpi del bobina. Ma che sono anche i stessi colpi, i razzetti che sparano i cabal colossi da dietro la schiena. No, no, Sergio, Sergio. E c'è anche il mirino che è la barriera dei falangi cabal. L'arma promette... Cioè, se c'ha pure i stessi danni del bobina, tipo... St'arma è una mina. Fenomenale. Parassita lancia vermi con danni aumentati. Ok, questa qua non so se sarà un'arma meme o meno, ma il fatto di lanciare un verme e vederlo esplodere contro l'alveare stesso fa ride. Fa molto ride. Però... Figata. Secondo me devono mettergli tipo il perk seduta plenaria... Plenaria, non so come si chiama... Che in base al tempo di percorrenza gli aumenta il danno. Quindi tipo tu ti dà un chilometro e ti arriva un verme che è una nuke. Osteo Striga, che è la mitraglietta che abbiamo già visto nell'immagine, quella là del pre-order... Che sarà disponibile dal pass della prossima season... Che essenzialmente è una mitraglietta con... Ecco, che scatena una raffica tossia, nube tossia, insomma, col veleno, come lo volete chiamare. Interessante. Mi piace il concetto del veleno. Secondo me stanno preparando perché in futuro, non questa espansione, forse con Lightfall ci sarà una sottoclasse completamente nuova. Un elemento... La sottoclasse, la famosa sottoclasse del veleno. Secondo me è speculazioni, speculazioni, mi raccomando. Però interessante, figa, voglio vederla poi in crogiolo soprattutto. Cioè, tante armi sono interessanti per il PvE come il mitraglione e il lanciavermi. Poi alcune armi vedremo come sarà il PvP. Questa qua, secondo me, il PvP può essere interessante. E poi il falcione nuovo, regà. Cioè, il falcione del titano crea una bolla. Il falcione del titano crea una cazzo di bolla. Questa roba non solo è broken in PvE, ma tu pensi in PvP, spari e crei una bolla, così dal nulla. Io spero che questa bolla sia, qua dico uno scudo protettivo. Spero sia solamente di vita. Non penso di anche armi della luce e il buff di danni, perché altrimenti... So cazzi. Quella dello stregone invece è fighissima. Mi piace come lo stregone sia sempre più orientato come support. Cioè, i gambari dell'assemblatore che prima ti fornivano le sferette per curate i danni aumentati. Adesso crea torretta che cura. Puoi creare la torretta invece che rallenta i nemici con la stasi. Insomma, molto figo, interessante. E poi per il cacciatore... Fulmichi con catenati traccianti. Un po' tipo all'amante del rischio. Un po' tipo alla supercell a zalo. Non so, toccherà vede poi i danni, però è carino. Ah, qui vediamo decori nuovi. Sì, sì, no, queste sono le esotiche. Queste sono le esotiche nuove. Questo è il petto del titano, le braccia dello stregone e l'elmo del cacciatore. Ok. Petto del torace, i muri da stasi sostituiscono le barricate. Allora, sta roba è fuori di testa. Fighissima. A parte questo qua che è un cannone portati, una pistolina, non lo so, fighissimo. Tu sostituisci le barricate con i muri di stasi è fortissimo perché tu puoi trasformare la stasi rompendola in frammenti di stasi. I frammenti di stasi li puoi convertire in pozze elementali perché ci sono delle mod che ti permettono di farlo. E quindi è broken in PVE perché adesso hai il corpo a corpo che crea stasi, la granata che crea stasi. E adesso pure la barricata che crea stasi. Cioè tu potenzialmente puoi avere sempre la resistenza ai danni quando stai vicino ai muri di stasi. Puoi raccogliere i frammenti, le sorgenti per ridurti i cooldown di tutte le abilità, di quelle che vuoi tu, in base a come fai la build. E inoltre puoi recuperare vita e avere sovrascuto raccogliendo i frammenti di stasi. Cioè sta roba per il PVE è fantastica. E per il PVP insomma pure, cioè, stacce vicino, rallenti gli avversari. Cioè, non è la barricata è piccola, a me questa qua sembra enorme. È enorme, regà. Invece le braccia dello stregone potenziano la granata morsa gelida che è quella che insegue e ne aggiungono una in più. Bel dito in culo in crogiolo, eh. Questa, un bel dito in culo in crogiolo. Cioè, apparentemente hanno nelfato la natura del cacciatore e l'hanno data allo stregone tramite esotica. Ok? E invece l'elmo del cacciatore, i proiettili respinti infliggono danni maggiori. Questo è interessante, eh. Il bastone aveva già un'esotica che è l'imbagatura di Raichu, che te ne stendeva la durata, se non sbaglio. Però era un po', insomma, non è proprio la sottoclasse migliore. Adesso che ci sono state reworkati i tier e i cooldown delle super, magari di bastoni ne vedo molti di più. Che ne aumenta i danni in PVP, magari cambia poco. Magari invece body shot, se ti sparano un colpo di cecchino e tu lo respingi. Magari ecco qua fanno vedere un titano che ti tira un martello e questo esplode, ne uccidi tre. Vabbè, situazione assurda. Fattibile, ma un po' assurda. In PV pure potrebbe essere interessante. Magari ci sono degli step, delle fasi, non sappiamo, di dungeon o ride. Dove ti fanno determinati attacchi, determinati mob e rispingendoli fai più danni. Cioè, tocca vedere quant'è l'aumento di danni. Perché se è un aumento di una buona percentuale, magari una nuova strat, è affrontare un boss riflettendo i colpi dei nemici. E poi vabbè, qui... Niente. Stiamo a vedere le robe, quanto le armi esotiche. Il set di armature. Fra, ma quanto è figo sto elmo. Fra, ma quanto è figo sto elmo del titano. Ok, poi sabato finisce la Siria. Signori, che dire? Se non erate in hype per tutti i trailer prima, per tutte le volte che abbiamo intravisto il Trono Mondo di Sabaton, per il fatto che l'alveare ha i nostri stessi poteri e ce li userà contro. Adesso sappiamo ancora di più sulle esotiche nuove, armature esotiche e armi esotiche. Io spero che non siano solo queste, insomma. Mi va bene quattro armi esotiche nuove, tre armi esotiche nuove, quello che pare, mi va bene tre armature. Spero non siano solo queste, ovviamente, ma non voglio sapere tutto prima. Voglio anche scoprirle quando uscirà. Signori, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Mi raccomando, discussioni tranquille, pacate e, che dire, non vedo l'ora. Non vedo l'ora del 22 febbraio, non vedo l'ora di fare anche la 24 ore il 5 marzo. Pensa da Napster tutto, noi ci vediamo il prossimo video. Bella.